So, where did you buy this? So, here we go. This vehicle is very nice and very nice. I like this vehicle. 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 Let's start with the special color. I'm also a little bit cold. So, I like this vehicle. I like this vehicle. The main color is the Cabernet. And the color is the Rosso Formula. The Rosso Cabernet is red. And the Rosso Formula accentuates much more. Because the Cabernet is not very red. It's red but not red. Because they have made it like this. But it's like the Rosso-Rosa. Invece, the Rosso Formula accentuates more. And especially the curves. The curves of this vehicle are amazing. Let's start with the second color. The second color is the yellow color. The yellow color is the green color. This is because the yellow color is very good. And the green color is very good. But obviously, they are good. For example, if you don't like the yellow color, you don't like the yellow color. You don't like the yellow color. You can see the next color. For example. But, guys. So, for this car, there are a lot of colors. So, guys. Now, I have selected this special color. I like to have a lot of colors. But, I like to have a lot of colors. Because, in this car, I like to have a lot of colors. Bene, passiamo alla prossima colorazione, ovvero la terza Allora, come colorazione principale ho scelto il verde benzina E perlescente il blu profondo Ora ragazzi, il blu profondo come perlescente, ora qui non si vede tanto bene Però il verde benzina, guarda, è la colorazione che tra queste quattro che ho scelto mi piace di più sinceramente Non so il motivo, ma mi attizza molto questa cazzo di colorazione Mi attira Poi il blu profondo l'ho scelto per il semplice fatto che quando ci sta il sole Il blu, non lo so, trasforma quel verde che già è di suo celestino E lo trasforma verso di più il blu Quindi a me piace moltissimo questo colore, soprattutto su quest'auto Bene, ecco la quarta colorazione Ovvero il marrone terra di Siena, come colore principale, è il perlescente arancione Allora, il marrone terra di Siena è un marrone arancione E comunque come perlescente ho scelto l'arancione perché ci sta davvero tanto E poi trasforma le curve dell'auto meglio del marrone insomma in sé per sé Perché il marrone, io non l'ho mai visto nessun veicolo marrone Ma il marrone terra di Siena con il colore perlescente sull'arancione Su quest'auto Albany Virgo, guarda, ci si sta davvero tanto Mi piace assai sinceramente Perché comunque il perlescente si nota anche quando non c'è molto sole che riflette sull'auto Quindi a me piace davvero tanto Dai, ragazzi, spero che questo video vi è piaciuto Io vi invito a lasciare un bel like al video Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Passate per la mia pagina Facebook, link in descrizione Profilo Facebook, sempre link in descrizione Mi raccomando, ci tengo, passateci quindi E ragazzi, fatemi sapere che colorazione vi è piaciuta E fatemi sapere una colorazione speciale che invece piace a voi Che non ho magari pubblicato in questo video o negli altri video Quindi ditemi qui sotto nei commenti delle colorazioni E magari ci farò un video a parte dove ci farò colorazioni speciali degli iscritti per esempio Che so, fate come volete voi Insomma consigliatemeli perché potete apparire in un video Quindi ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video E ciao ciao